La Costituzione, nata dalla resistenza, invece è proprio un sistema di regole che procedono diversamente da tante altre leggi, non dall'alto, dall'autorità nei confronti dei sudditi, ma dal basso, limitano il potere dell'autorità. Purtroppo, oggi assistiamo in Italia, invece, sempre più spesso e nei contesti più diversi ad un'autorità che cerca di sfuggire alla Costituzione, un'autorità che si manifesta non per la sua altezza morale, ma solo per la sfregiudicatezza di come piega le leggi a proprio vantaggio e di alcuni privilegiati, mistificando e ingannando il popolo. Un governo che, spudoratamente e vergognosamente, nomina dei ministri solo per farli sfuggire alla giustizia. Fortunatamente non sempre riescono questi intenti, ma inevitabilmente un simile comportamento conduce alla delegittimazione istituzionale, come nella vicenda dell'acqua. Acqua, vi ricordo, metafora della resistenza nel monumento in piazza 26 Luglio a Udine. Secondo l'ultimo di una ridda convulsa di decreti di questo governo, deve invece essere privatizzata, pagata dai cittadini non più per il suo valore d'uso, ma per garantire, così recita spietatamente questa legge, una remunerazione del capitale al 7%. Acqua, che così viene subdolamente privatizzata, anche se la maggioranza apparentemente rimane pubblica. Ma cosa possono fare una molteplicità di comuni, partner pubblici, di fronte ad un unico partner privato, grande decine di volte il più grande tra loro? E le autorità d'ambito ottimale, che erano l'ultimo valuardo pubblico, grazie al fatto che i comuni riuscivano ad amministrarle, sono oggi completamente delegittimate, da una criminale ridda di leggi che tende a destabilizzarle e screditarle. E di fronte alla crisi economica, il governo nazionale e regionale opera secondo una logica che vede nel lavoro e nei lavoratori un costo da ridurre e nulla investe nella formazione e nell'istruzione. Oppure introduce leggi discriminatorie, che escludono fasce di cittadini che non hanno sufficiente anzianità di residenza e cercano di scaricare i problemi individuando capri e spiatori, come gli immigrati o gli stranieri. Ben altra visione avevano i provvedimenti legislativi di quella fondamentale esperienza che fu la Repubblica partigiana della Carnia, la prima a dare il voto alle donne, Repubblica quando ancora l'Italia era un regno, che curò la ripresa dell'anno scolastico con la revisione dei contenuti espressamente fascisti dei libri di testo, che deliberò in materia fiscale istituendo una sola tassa progressiva sul reddito, rifondò il sistema giudiziario prevedendo subito l'abolizione della pena di morte, introdusse misure di solidarietà e tutele dell'ambiente e del patrimonio comune boschivo e dell'acqua, che varò misure in difesa dei lavoratori e in effetti preoccupa che proprio appunto questo patrimonio boschivo, questo valore straordinario che era gestito appunto dalle comunità montane in questo momento e gestito da dei commissari, voi capite, questo patrimonio. Repubblica della Carnia, vera esperienza civile e non militare, autentica anticipatrice di una Costituzione che deve essere difesa e fatta vivere, difesa nel suo principio, che risale alla rivoluzione francese, il principio dei diritti umani e della separazione dei poteri. Assistiamo invece quotidianamente a tizzativi sorrettizi di scavalcare le regole che la Costituzione stessa dà per trasformarsi. Si pensa alla questione della libertà di stampa, delle carriere dei giudici, dell'impunità dei potenti, dell'abuso di decreti legge e di fiducia che di fatto scavalcano il Parlamento. Proprio in questi luoghi non posso non menzionare una vicenda profondamente umana e per tanti versi emblematica in questo impegno per far vivere la Costituzione che ha coinvolto proprio genti di quassù che portano gli stessi cognomi di alcune vittime di queste stragi. Beppino Inglaro è per me un nuovo eroe civile di queste terre. Ha saputo trasformare il più tremendo dei drammi familiari in una missione di impegno civile, dimostrando con la sua azione non solamente un amore paterno nei confronti della propria figlia, ma anche un amore nei confronti di tutti i cittadini italiani. Ha creduto fino in fondo nel fatto che la Repubblica italiana fosse una nazione civile. Non ha mai voluto utilizzare scorciatoie e ha voluto dimostrare a beneficio di tutti i cittadini italiani la fede nella giustizia e nella Costituzione che la garantisce. Siamo orgogliosi di essere stati al suo fianco nella fase finale di quella battaglia civile, combattuta a Udine, contro un governo che fino in ultimo e con ogni mezzo non accettava di garantire il diritto alla giustizia ad un padre e a una figlia che pure avevano a loro favore sentenze di ogni livello giudiziario, che riconoscevano loro il diritto a quanto sancisce l'articolo 32 della Costituzione. A Udine nel febbraio del 2009 abbiamo saputo avere coraggio, non essere spettatori. Abbiamo fatto il nostro dovere di garantire ai cittadini i loro diritti. Infine vorrei esprimere parole forti di elogio per l'Anti, per il suo impegno nel raccogliere e conservare i documenti storici, nel far rivivere la memoria, nel curare queste commemorazioni. Sono tanto importanti per conservare il senso di un impegno civile attivo e coraggioso, quello dal quale è nata la nostra Repubblica e la sua Costituzione, per la sua battaglia finale per la memoria della Resistenza. Memoria diretta ancora viva per poco. E ci si domanda ma perché questa memoria entra con tanta difficoltà nella storiografia ufficiale? A cosa è dovuto questo indugio nella presa di coscienza del rilievo dal punto di vista storiografico di tanti eventi come quello delle stragi del Budi? È dovuto spesso al ritardo oppure all'inesistenza della loro rielaborazione giudiziaria. Bisognerebbe invece svolgere e riaprire attività investigative in questo senso. Lo dobbiamo alle vittime, ma lo dobbiamo anche ai nostri figli ai quali insegniamo la storia. La guerra fredda invece ha spesso portato a interrompere le indagini nei confronti dei crimini nazisti e fascisti. Si è cercato semmai di promuovere una banale lettura a partigiani rappresaglie. Ma i fatti della valle del Bud dimostrano invece che la guerra contro il nazifascismo, la guerra condotta dai nazifascisti fu invece una guerra ai civili. Fu guerra totale, fu guerra di sterminio. Gli stessi militari della Wehrmacht hanno infatti infranto le regole del diritto internazionale di guerra. A combattere questa battaglia finale per la memoria della resistenza, per i lavoratori fondanti della nostra Repubblica, sono rimasti solamente loro, ancora, i partigiani e l'anti. Assistiamo invece sempre più spesso a tentativi ufficiali di appiattimento delle differenze tra partigiani e fascisti di Salò, o all'enfatizzazione di episodi certamente condannabili ma marginali, addirittura ad onoreficenze conferite nella giornata del ricordo alla memoria dei fascisti. Non si vuole negare che tutte le vittime, almeno nell'istante in cui sono vittime, sono innocenti. Non si vuole rinunciare a condannare tutte le ingiustizie, ma non dobbiamo confondere la memoria, il pensiero, gli ideali, il coraggio, la fede di quei giovani che seppero essere partigiani, che seppero scegliere tra l'essere attori e sacrificare la loro vita e quelli invece che cercarono di combattere questi, mettendosi al servizio dei nazifascisti. La nostra riconoscenza e celebrazione devono andare solamente ai partigiani. Un conto sono gli individui in quanto tali. Non tutti possono essere degli eroi e solo per questo non devono essere puniti, ma condannati e colpevolizzati per il loro comportamento, questo sì. E assolutamente non devono invece essere scusati o addirittura elogiati. Quale modello vogliamo dare ai nostri figli? Il 25 aprile in Piazza Libertà a Udine, quando espressi nel mio discorso ufficiale la riconoscenza immortale degli italiani verso i partigiani e la ferma distinzione tra chi si è battuto per la libertà e chi invece per la sopraffazione, tra chi ha creduto in un mondo migliore dove esprimere liberamente l'infinita ricchezza della natura umana e chi invece ha sostenuto l'omologazione e l'appiattimento fascista, sono stato condannato per aver fatto un discorso che divide invece di unire. Ma io credo che la vera lezione della resistenza, quella sempre attuale, sia che bisogna dividere, bisogna distinguere tra il bene e il male, tra i valori e i dilitti, altrimenti viene meno la nostra stessa dignità di uomini che proprio il ricordo dei partigiani e della gente comune che li ha sostenuti, come qui a Sutrio, ci danno. La resistenza è attuale in ogni momento, come quello che stiamo vivendo, dove serve una riscossa civile. Vivano nella nostra memoria le vittime delle stragi del 21 e 22 luglio 1944 nella Valle del Burt. Viva la resistenza, viva la Costituzione, viva la Repubblica Italiana! Grazie!